bella a tutti ragazzi dal vostro giappo 881 benvenuti qui nel primo video online di gta online con sebi che fa il segno dell'ok ecco le nostre moto siamo al motor cycle club per accettare una missione ed iniziarla andiamo sebi dai 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 il primo video su gta o sul canale su gta 5 è andato bene grandi la live di ieri meno però vabbè dai non fa niente ci rifaremo che missione abbiamo sebi fuggitivi ragazzi dobbiamo fare vadere delle persone quindi bella dai dai una bella missione meno male dai ok con cosa andiamo con le nostre moto eh vabbè no pensavo che ci prendiamo avanti dai dai vediamo dove fa il bus dobbiamo andare guarda poi andiamo in colpa vai vai 4 chilometri ragazzi io sono spericolato alla guida e sebi sempre mi arriva addosso bella dai andiamo prendi le distanze per favore ma cadiamo dai dai raga a me piace guidare in questo gioco forse l'unico gioco in cui mi piace guidare i giochi di automobili moto non mi piacciono però vabbè o gta raga mi sono perso cinque anni di questo gioco e li sto recuperando tutti in una volta veramente poi non sono così tanto scarso eh non sono risa conto dal primo giorno rango 11 eh si è caduto raga ho parlato non devo mai parlare io mai perché poi prendo il guard rail e mi stampagno abbiamo 28 minuti di tempo per finire la missione però non vorrei fare tanti tagli sinceramente spero di non farli dunque dai ragazzi supportate i video i video li supportate ste cazzo di live però cavolo eh ve le siete dimenticate raga le live ve lo vuoi fare così sul busto lo guido io lo guido io lo guido io lo guido io va bene o vuoi guidare lo vuoi guidare tu io sono cioè sono capace in tutte e due le cose sia guidare che sparare quindi o chi prima prende prima guida basta dai dobbiamo attraversare vai 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 entra entra ok vai 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 bella raga bella vai vai madonna quanto è lento ecco perchè ci danno mezz'ora di tempo occhio 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 movimento sui io sto scappando eh per prendere distanza sai sebi bella dai raga gioco di squadra con sebi matteo vai vai non è lì non ne è tanto niente non ne è tanto niente sto fungono guardate che guida pulita ho parlato eh ma vai o avanti o dietro perchè ho paura di prenderti io avanti a meno di 5 metri non vedo eh quindi eh vorrei anche metterti scotto per sbaglio ma altanto guardo pure lì un compito cioè nel senso non frenare bruscamente se no di un besta ecco hey the retard over there get lost puto yeah come on yeah do it yeah go vai vai raga vai 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 che stiamo sbaragliando tutta la polizia di Los Santos Vai Di San Andrea Stavamo andando a rischio Ti voglio suonarci col guardrail Vabbè dai Ora respawn Tranquillo Stiamo giocando bene Get the fuck Get the fuck ragazzi Get the fuck 2,83 Vai 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 Che siamo arrivati Io devo accelerare Per forza Non posso aspettarti Dai che sto messo benino Vai Occhio che c'è una girata molto brusca E sto avendo paura di andare a finire nel fiume Giuro Mamma mia Devo stare parecchio attento alla strada Se no la prendono in culo qui Ma non è che mi hanno forato le ruote No 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 sebi togliti Togliti Vai dietro Perché se no qui Finiamo nel fiume Non ti mettere a fianco Perché se no Mi deconcentro a guidare Bravo 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 Vai 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 che ci rinforzano la macchina Buono Un chilometro Abbondante Un chilometro Meno di un chilometro Vai 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 che siamo arrivati Dai raga che voglio raccimolare un bel bruzzoletto Per farmi Un bel Personaggio Vai vai Grande sebi Grande Abbiamo un fuoriclasse in squadra Sebi Teo Esperto nel gioco Io sono inesperto Ma sono capace Bello Siamo arrivati raga Grande Ce l'abbiamo fatta Abbiamo scalato il rango Ragazzi 22.500 dollari Bella Mi è piaciuto parecchio Fare questo Gioco Questa missione Siamo diventati Truffatori Ragazzi C'è Mi è piaciuto parecchio Fare questa missione Insieme a Sebi Teo E a voi Ragazzi Ecco la sua moto Guardate quanto è bella Con la scritta Stronzo Bella ragazzi Dal vostro Giapo 881 Dal mio amico Sebi Ciao E ci rivedremo nel prossimo video Bella e varia il comand Ragazzi Grazie a tutti